Ragazzi, prima di cominciare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale perché più del 90% di voi che guarda i nostri video non è iscritto, solo il 3% è iscritto, quindi che aspettate iscrivetevi E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su... Stumbleguys! Ragazzi, oggi siamo tornati dopo un bel po' di tempo su questo gioco e vorremmo farvi vedere i progressi che abbiamo fatto Infatti ragazzi, io sono arrivato a ben 5 win con 760 trofei, Gostani invece ha... 860 trofei e 4 win Quindi una win in meno di me ma più coppe, quindi oggi iniziamo subito a giocare con il nostro bel Gostani e vedere se riusciamo a fare una bella vittoria 8, 9, 6, 5, 8 vai Sì Per questo video ragazzi dobbiamo arrivare almeno a 6 like, giusto Gostano? Almeno 6 like, intanto grazie a tutti per gli 80 iscritti Infatti ragazzi siamo arrivati a 80 iscritti, eh Una cosa veramente incredible Dato che noi facciamo video più o meno da un mese, perché in realtà da più, però... Non abbiamo caricato video per tantissimo tempo, quindi in realtà il canale è come se ce l'essi da un mese, quindi 80 iscritti Va più che bene E vi ringraziamo tanto Eh sì, comunque voi continuate a iscriverci e a supportarci Intanto, ok, per fortuna non ci è capitata la Sir Trasher perché io la odio Eh, quella solo al secondo livello, perché non può mai capitare Eh, però al secondo livello io la odio Comunque, eh, ragazzi, come ha detto Pugnagostano dovete continuare ad iscrivervi Perché non è che mo' arrivate tanti iscritti, basta, dovete continuare a spolliciare, ad iscrivervi E usciranno sempre più video, sempre più qualitosi, come direbbero i Clasher Comunque andiamo qui Eh, no, che sto facendo? Sono stupido Ragazzi, sto giocando un po' male, però va bene Non fa niente Ma io mi sto quasi qualificando Eh, lo so che ho giocato molto male Ok No No, questa parte ti giuro, Fra? Io sono Ok, sono qualificato No Ah, sì, ci sei allora, eccoti Ok, io sono qualificato pure Bene, ragazzi Vediamo se si qualifica questo con la skin di Hitler Cioè, quello Cazzo, aspetta Guarda qui Ci sono un sacco di skin fighe Ma a me esce sempre quella La stessa Quella default Solo con un colore diverso Non so perché No, io c'ho la skin che ho cercato Ho una sfiga incredibile Cioè, non mi escono skin Eh, no, invece io Sai che con le skin piene La più bella che ho trovato è questa qua della gente Io, se vuoi ti faccio Siamo vicini, guarda Eh, sì E comunque io ho una skin Che se vuoi ti faccio vedere poi Che è tipo una di un vichingo Che è abbastanza figa poi Però io tengo sempre quella del ricercato Di Gostano Vediamo I 0 su 8 Vediamo se io mi riesco a qualificare No, sono caduto come un coiote Ok Vediamo chi Fra me e Gostano Riuscirà L'impresa a riqualificarsi Intanto Gostano Dov'è Gostano? Eh, me ne sono già andato, sai Sì, avanti Sì, molto avanti E avanti non tantissimo perché ti vedo Sì, comunque intanto mi sto qualificando Forse pure il primo, sai A meno che non c'è questo qua Ah, pure io mi sono qualificato Per primo Qualificato Vabbè, comunque Ci qualifichiamo anche noi Eh sì Benissimo No, la finale è qui, ragazzi Ok, questa è abbastanza molto difficile Vabbè, ma io la perdo perché qua non so giocare Cioè, qual è No, pure io, pure io Cioè, forse Forse io Ce la posso Ma Cioè, penso forse Ma Perché Cioè, non so Però penso che No Troppo di No No No, mi hanno bruciato Io non ci credo Eh, pure sono a me No, mi hanno bruciato No, a me Più o meno Io tutto Ce la Me la sto cavando Sai, zio Io me la sto cavando Fra, sai No Ghost Eh, lo so Questa parte è bruttissima No È impossibile Eh, lo so Fra Bisogna tipo Saltare Bisogna andare tipo qua Secondo me Eh, no Molto difficile Ma è difficilissimo Eh sì E non l'ho mai capito Ah Ah boh, ho perso ragazzi Palese No È impossibile Eh, no È molto difficile Ah, ma ho capito Questa andare No Ce l'ho fatta qua Però non so che fare Ok, ce l'ho fatta Incredibile ma vero No La palla di lava Ah, aspetta Io ho capito No No, mi ha tornato qua Non ci credo Ma sto livello è infame Ma io lo odio Ma io lo odio Io ho capito Io ho capito Guardi tu che livello di schifo Che ci può capitare in finale Io non lo so Peggio di quello Dello nei Dello nei drop Eh sì Sì Ho vinto Ho passato Sì, non hai vinto No, no, no Eh, là ci sono le palle Che fanno schifo Che rompono tutto Mannaggia, mannaggia Ti buttano a terra Come un pazzo Eh vabbò Ma È impossibile È impossibile E poi c'è No Forse vinciamo Perché nessuno si qualifica Comunque Io non lo so che fanno Però No Eh vabbè Eliminato Vabbè Questa Vabbè Chi ha vinto Chi ha vinto Vediamo Vediamo Chi ha vinto Eh questo qua Fair route Eh vabbò Fair route Però bello mio Sappi che Era impossibile Questa mappa Questo è il codice Ghost Vai prego Vada vada Sette Otto Tre Sei zero Ok Vediamo Vediamo se riusciamo a fare una pittoria in sto video Ok vediamo che modalità ci capita Spero una buona Perché Cioè vediamo Ah ok Ok Sì Questa è buona Mi piace Sì mi piace Vediamo Vediamo un po' Io spero Non ci piace la parola piace Sì piace Piasce Ma pure piace 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 Ragazzi Piaceri Commentate con piaceri Perché mi spacco di Pandoro Se siete arrivati a questo punto del video Commentate con hashtag piaceri Ok ok Hashtag piaceri Se siete arrivati a questo punto del video Ok per chi non lo sa è una marca di Pandori Che costano si spacca Perché io mi spacco di Pandoro Perché è il mio debole ragazzi Un debole per il Pandoro Piaceri soprattutto Buonissimo Da alta pasticceria Ve lo consiglio ragazzi Prendetelo Perché non vi sbagliate È una pubblicità Gratuita Per sfortuna Non ci pagano Per fare questo Però Se voi vi iscrivete Arriveremo a un punto Che ci pagheranno Per fare questo Quindi Iscrivetevi E io sono forse Il primo che si qualifica Lei No No aspetta Aspetta bro No 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 Qua ci sono in tanti Qua sono in tanti Quindi aspetta Aspetta bro No qua sono in tanti bro Vai gott Sei qualificato Per quanto mi sono qualificato Per fortuna ragazzi Per quanto No vabbè Ma intanto L'ultimo dopo di voi Era lontano Alla fine Arrivano tutti Cioè Arrivano tutti all'ultimo Non capisco perché Arrivano tutti all'ultimo Speriamo che non mi capiti calcio Perché mi fa schifo No Eh lo sapevo Lo sapevo che capitava Lo sapevo Fa schifo La odio Speriamo che se mi squadra Siamo contro No Siamo pure contro Che merda Quindi io Mi qualifico io e tu Per questo Butta questa modalità Eh infatti Mamma mia che brutto No Ah costano quasi Tu sei blu Ahimè Ma poi scusi I blu si fanno autogol No Dai Ti prego vai Eh non mi sembra Che vi state facendo Tante autogol Eh Sì Sì Si è fatto autogol Costante J Grazie Costante J È stato molto un piacere Vai Gol di Pumo Sì No Pumo la segna 2-1 Avete segnato pure voi Eh sì Che segnate Tu sei là C'hai la palla Ah Sono pure io nella massa Ah Segnerò Yeah Mamma mia che brutta Sta modalità 3-2 Però 3-2 Intanto voi state segnando Eppure Sì ma sta modalità è bruttissima Perché c'è uno che Evidentemente Mi faccio autogol Questi Si fanno autogol Tutti Che bro con la cento Con l'Aeromosh Vai No 6-2 Vabbò dai 6-2 Che è Tutti i tre palloni contemporaneamente hanno fatto Carola J Vai 12 secondi Abbiamo vinto Abbiamo vinto Sì Ragazzi sono in finale Se vinco questa partita Sono swag Perché io vinco sempre nei video Eh no 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 Ok Stavate segnando Tre palloni di fila Vabbè Ragazzi Questa è la finale Ovviamente Gostano ci specta Sì Per vedere se Possiamo guadagnarci la vittoria Vediamo l'ultima mappa Ne capite una buona Acqua Park No zio Laser Tratcher Non lo so fare Che brutto Ti giuro Che bruttissimo Ho perso Palese Non so farlo No Laser Tratcher Che brutto Non ci credo È saltata pure la registrazione Ragazzi Non ci voglio credere No Sono eliminato Sto 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 Non ci credo Chi ha vinto Quello con la Fasa di Hitler No comunque Non ci credo Ti devo dire una cosa A me mi è capitato E ti giuro Che Ti stinco Tu Fa un po' schifo Vabbè No Non ci credo Ragazzi Abbiamo rischiato Di portarci a casa La partita Ma per questo video Credo che possa essere tutto Noi ci vediamo Un prossimo Video Qui su StumbleGuys O su Minecraft Quindi abilitate La campanella delle notifiche Per non perdervi Nessun video E alla prossima Bella